La sua azione politica al Ministero dell'Ambiente Non la guardi con gli occhi esterni con cui la puoi guardare un giornalista che somma una serie di dati ed effettivamente ero scomodo perché ero normale, nel senso che io credo che un Ministro dell'Ambiente cercava di diffondere le energie rinnovabili e di togliere il contributo CIP6 ai petrolieri perché era uno scandalo che i soldi che servivano per fare il solare andassero agli inceneritori o alle raffinerie di petrolio, ma quella era normale. Evidentemente per le lobby abituate a governare al posto dei politici o con politici compiacenti, diciamo così, questa era invece una cosa inaccettabile. Ora io sono comunque contento perché grazie a quell'intervento che ho fatto allora, oggi abbiamo in Italia 600 mila impianti solari, abbiamo molte rinnovabili, il 40% della nostra energia elettrica è prodotta da fonte rinnovabili, ma sicuramente l'attacco che ho avuto e che Rita registra bene è stato violento da parte di chi non tollerava che un Ministro dell'Ambiente facesse il Ministro dell'Ambiente. Questo è valso quando ho cercato di bloccare gli inquinamenti dell'Ilva o quando abbiamo detto che il rigassificatore di Brindisi non funzionava, poi le inchieste l'hanno dimostrato, quando sono stato l'unico a mandare per iscritto una nota formale contro il Mose, solo l'inchiesta oggi ha rivelato quanto il Mose sia costato uno sproposito rispetto a quello che valeva, quando abbiamo definanziato il Ponte sullo Stretto che era uno spreco di denaro oppure quando abbiamo cercato o ho cercato di fare la raccolta differenziata in Campania e invece fu montato il caso dei rifiuti campani come le inchieste hanno dimostrato con un Bertolaso che all'epoca era considerato un santo ma poi insomma in una serie di intercettazioni di vicende si dimostrava invece che Bertolaso certamente non sosteneva le iniziative del Ministero dell'Ambiente. Bene, tutte queste cose quando Rita me le ha rappresentate e quando le ha costruite insieme mi fanno confermare il fatto che ho fatto bene a continuare a fare le cose per cui avevo giurato sulla Costituzione di onorare il mio impegno verso il Paese, ma sicuramente sono stato ingenuo nel non rendermi conto che avevo contro una serie di personaggi senza scrupoli, alcuni travestiti da amici, i più palesemente nemici, ma che io pensavo fossero avversari perché volevano il carbone e il petrolio, ma non che arrivassero a montare una macchina del fango e a creare le condizioni che Rita chiama di rimozione. Sicuramente quella battaglia è stata molto pesante, ma i risultati di quelle politiche che ho intrapreso oggi si vedono ancora in positivi e io comunque sono qui, non mi sono arreso e sia con le attività che faccio all'università, sia con le attività sociali, oggi sicuramente io continuo a ritenere che il futuro saranno le rinnovabili e che quelli che vogliono fare trivellazioni petroliferi oggi nelle campagne o nel mare dovranno incontrare una forte ostilità dei movimenti, delle persone per bene di questo Paese, ma anche degli imprenditori che sanno che il futuro dell'Italia è un turismo di qualità in aziende non inquinanti e non certamente nel far bucherellare l'Irpinia dei bellissimi vigneti o la Sicilia o l'Adriatico cercando di creare danni a un'economia come quella italiana che sul mare, sulla qualità dell'ambiente, sulla bellezza delle nostre coste trae un grande beneficio.